Silvia Cangelosi per Media Hotel Radio, sono in compagnia del direttore Federalberghi Lazio, Tommaso Tanzilli, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, una conferenza davvero interessante, due ore, come abbiamo detto, con un taglio politico, ma anche imprenditoriale. Questo dovuto anche alla presenza del ministro e dell'imprenditore Flavio Briatore. Si è parlato di pressione fiscale, la nostra fra le più alte d'Europa purtroppo. Si è parlato anche di evasione fiscale delle imprese ricettive in linea generale. Si è parlato anche della questione Airbnb. Citando la frase di Bob Dylan, premio Nobel, ruba poco e finirà in prigione, ruba tanto e ti faranno re. Beh, sì, è esattamente quello che sta succedendo, nel senso che gli albergatori sono soggetti a delle norme che prevedono addirittura la carcerazione da 4 anni e 6 mesi fino a 10 anni, nel caso in cui addirittura solo ritardassero il pagamento della tassa di soggiorno. E c'è qualcun altro, ci sono altri soggetti in questo paese che si possono permettere invece di fare quello che vogliono, addirittura di non pagare quanto previsto dalla legge dello Stato. Quindi abbiamo marcato questa differenza in questa assemblea e in questo convegno nel quale sono emersi tutti gli altri problemi e criticità che ha il sistema turistico del paese dalle varie visioni e dai vari punti di vista, dal punto di vista delle istituzioni. Il ministro Centinaio ha portato il suo indirizzo politico su come vorrebbe risolvere alcune criticità di cui parrebbe essere convinto e cosciente e consapevole. Ovviamente il Briatore ha fatto il suo, nel senso che con il suo modo di fare è abbastanza conosciuto, ha fatto il Briatore Show, però ha messo le mani e ha posto l'accento su alcuni problemi che sentiamo tutti sulla nostra pelle. Per esempio l'Italia non è pronta per il turismo di lusso, facciamo un turismo repellente, vediamo il turista come un pollo da spennare, si è parlato tanto dell'intrattenimento artistico, cioè il cercare anche di far rimanere sul territorio più giorni possibili il turista, quel turista che spende. E poi si è parlato anche di barche, come abbiamo fatto l'esempio di Capri, perla del Mediterraneo, ma non solo, anche questo circuito che da Saint-Tropez, dalla Francia, tocca la Sardegna e Capri, questo è un circuito rinomato delle barche, quindi cercare di far rimanere il più possibile sul territorio anche questo tipo di turisti. Beh sì, questo è stato il mood di Briatore oggi, mettere l'accento sul fatto che forse non siamo eccessivamente accoglienti ad ospitali per il turista non tanto ricco, perché non vuole essere un discorso di carattere sociale, per il turista altospendente, perché giustamente ha fatto una battuta oggi Briatore, il ricco che non spende è comunque un po'. Ce ne frega niente. Esatto, non ce ne frega niente, ha usato anche termini un po' più pesanti. Dobbiamo sicuramente essere in grado di essere un po' più accoglienti, di toglierci questo problema etico che il turista altospendente, che mettiamo l'accento solamente e l'attenzione solamente al turista altospendente, perché non è vero, ci sono territori come Capri, è un esempio dove l'eccesso di pressione antropica è un problema e quindi forse è arrivato il momento di cominciare a fare qualche scelta in questo paese. Si è parlato anche di infrastrutture e gli aeroporti, da Nizza si arriva in un quarto d'ora nel centro, invece in Italia? Questo è un problema che riguarda sicuramente tutto il paese, non solamente nel meridione da cui stiamo parlando, ed è un problema che riguarda tutto il sistema imprenditoriale del paese, non solamente il turismo, cioè se c'è difficoltà a fare i collegamenti, è un problema sicuramente per il turismo, ma è un problema anche per l'industria, è un problema per tutto il sistema imprenditoriale. Anche qui bisogna cominciare a ripensare il sistema infrastrutturale del paese. Ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta, si è parlato del settore croceristico, io ho lavorato sulle navi da crociera, quindi insomma anche i porti, attrezzarli per quel che riguarda i porti del sud, no? Sì, beh, oggi il Ministro ha detto che se non cominciamo a dragare i porti, fra qualche anno abbiamo il rischio dell'insabbiamente che quindi le navi da crociera non riescano più ad attraccare nei porti del sud e credo che questo sia un problema per il sud ma per tutto il paese. Beh, rientra nel più ampio discorso delle infrastrutture. Questo paese va ripensato, va ripensato da cima a fondo senza dare, come dire, troppa attenzione ai sistemi frenanti per cui ha centri di lotta contro il no questo e il no quest'altro. Va ripensato da cima a fondo, sicuramente va ripensato anche in modo condiviso, all'interno del paese ovviamente, nessuno si aspetta scelte dittatoriali, però è arrivato il momento di cominciare a ripensare perché qualcuno oggi ha detto, Briatore stesso, se non ci sbrighiamo rischiamo di diventare come la Grecia. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie a voi, buon lavoro a voi, arrivederci. Grazie.